benvenuti siamo a castelforte in provincia di latina nel sud pontino e vi parlo dell'olio extravergine di oliva che è uno dei prodotti di qualità che il nostro territorio offre si tratta della cultivar dell'itrana che contiene tutte le sue caratteristiche di un olio appunto di extravergine quindi di ottima qualità della dieta mediterranea di essere un antiossidante di avere quindi tanti antiossidanti essere un antitumorale e di prevenzione di malattie cardiovascolari e in particolare castelforte banta la presenza di quattro produttori di cui troviamo qui il prodotto finito l'olio che troviamo qua viene utilizzato per la produzione di uno dei prodotti tipici sempre del nostro comune i piccelatielli che vengono appunto fritti nell'olio extravergine di oliva caldissimo ovviamente all'interno della dei piccelatielli che sono un pat quindi un prodotto agroalimentare tradizionale c'è l'aroma dell'arancia che è tipica di suio frazione di castelforte dove appunto troviamo l'arancia rossa un po più astringente e la bionda di suio che ha un sapore invece più dolce oltre alle arance troviamo sempre a castelforte produttori di formaggi caprini in particolare la marzolina che è un formaggio a pastatura ottimo su una fetta di pane il pane caffone sempre castelforte ne va fiero ovviamente la produzione di questo pane che viene cotto in forni a legna con una levitazione lunga utilizzando lievito madre e quindi un buon piatto quale può essere una fetta di pane con un giro di olio accompagnato dalla marzolina e le olive allora oltre alle indicazioni che ci ha dato lucia poc'anzi uno dei piatti particolari sono i fagioli cucinati in pignata questo rende una cottura particolare viene vengono cucinati dentro una contenitore di argilla chiaramente fatto a mano ci permette di conservare tutti i profumi e gli aromi del fagiolo stesso ovviamente viene cucinato a fuoco lento vicino al camino accompagnato sempre con altro contenitore di acqua calda per aggiungerlo mano mano e quindi viene una cottura che ti dà il massimo dei profumi vi aspettiamo a castelforte per degustare i nostri piatti tipici grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti